Io ho incominciato a lavorare un secolo fa, nel 1950 ho cominciato a lavorare a Roveretto e non c'erano gli antibiotici, non c'erano tutti i farmaci, i vaccini, eccetera, eccetera, ma ci si curava ancora con le erbe. Delle cose mi sono rimaste impresse, per esempio per la toscaina o la tosse asinina si prendeva il rapanello nero, si faceva un foro con un cucchiaino, lo si riempiva di zucchero, quando lo zucchero era sciolto lo si dava da bere al bambino. E poi per esempio il collirio, non c'erano tutti i colliri che ci sono adesso, quando veniva fatta la potatura delle viti si metteva sotto un boccettino legato e le gocce che seguivano al taglio del pezzetto di vite venivano raccolte e venivano adoperate come collirio. Per il mal di gola si tolleva la malva, si faceva il decotto di malva, gargarismi, oppure si dava per bocca. Quando uno aveva una spina e non riusciva a levarla, che cosa si poteva fare se non prendere la resina? Si prendeva la resina e si applicava la resina. Le donne quando volevano farsi la pulizia del viso, che cosa potevano fare? Che allora non c'erano tutti i prodotti cosmetici che ci sono oggi. Si prendevano le mandorle, si pelavano naturalmente, le si pelavano della maniera, mettevano le mandorle, li versavano sopra l'acqua bollente e dopo venivano spremute, levata la buccia, gli si aggiungeva alle mandorle lo zucchero, si pestava e si aggiungeva un po' di acqua e sbattendo si faceva il latte. Con quel latte si detergeva il viso e serviva per il viso. Ma il latte di mandorle veniva adoperato anche in quelle forme oggi diaroiche che ci sono, tutte queste forme veniva adoperato. Ma la cosa interessante anche era vedere, per esempio a Brentonico, che fuori dalle finestre c'erano delle bottiglie, dei fiaschi, una volta c'erano i fiaschi, non so se la gente si li ricorda, con una paglia intorno ed erano di colore non chiaro, ma direi sul verde, un verde scuro. Questi si riempivano di fiori di arnica e poi gli si metteva dentro l'alcol e venivano messe al buio, perché l'alcol se no, mentre prendevano l'iperico in alcune zone e veniva messo l'iperico dentro, sempre in queste bottiglie, riempite di olio, i fiori dovevano essere pieni, e l'olio e venivano messe al sole. I vermi si curavano con l'aglio, gli metteva l'aglio qua, gli aveva un cordoncino, gli metteva l'aglio, per i vermi sedeva i semi di zucca, per far venire l'appetito gli feva il famoso nella zona di Dro e Cenigal, era famoso il Decot, era Barbaro e China, e tutte queste cose venivano adoperate. Non parliamo poi quando un aveva una bronchite, perché lui feva le pape di Lino, con le pape di Lino si curava tutto. Per non dire per le famose sciattiche e i dolori, gli prendeva il ranuncolo, sono quei fiori gialli che fanno un gran prato, una specie di boccia, venivano pestate, se voi pestate non il fiore, ma il gambo, esce un latte che è fortemente irritante e con questo facevano degli impacchi sulla schiena, non vi dico come si riduceva la schiena perché diventava tutta una bolla, però avevano un'azione importante. Che cosa è successo? È successo che un bel giorno c'è stato un grandissimo cambiamento, perché quali erano i motivi di morte? La gente moriva di seticemia in percentuali molto alte, moriva di tubercolosi in percentuali molto alte, la poliomilite era una malattia abbastanza frequente, non frequentissima, ma abbastanza frequente, la seticemia era anche, cioè era un'infezione che oggi la gente è guadagnata, ma un contadino quando si tagliava e cominciava a fare infezione e si faceva una riga che saliva e arrivava, il problema di lasciarci le penne era molto alto. Non parliamo delle malattie venere, essi figli di gonococco. Un bel giorno gli americani hanno inventato la penicilina, molto tempo prima perché è stata inventata nel 1935, ma nella distribuzione ospedaliera e nella terapia è stata introdotta più tardi negli ospedali militari americani. Subito dopo la guerra nel 1945 alcuni ospedali italiani la avevano, ma sul territorio non c'era. La penicilina è arrivata sul territorio nel 1951-52, quindi io ho visto questo passaggio dalla medicina popolare abbastanza frequente all'arrivo di questi farmaci. C'è stato un cambiamento epocale per dare una percentuale, pensate che la tubercolosi siamo passati dal 60% all'1,2%, quindi non è cosa poco. Le broncopolmonite avevano una media del 60% di mortalità, nel giro di poco tempo siamo passati a un 12-13%. Il cambiamento epocale per conto mio è stato dato dagli antibiotici, poi il grande cambiamento dei vaccini, proprio il vaccino per la poliomelite, la poliomelite è completamente scomparsa, pensate al vaiolo, tutte le vaccinazioni del vaiolo. Poi c'è stato invece un fenomeno che è stato quello della pillola, la pillola è stato un fenomeno importantissimo perché che cosa ha fatto la pillola? La pillola ha cambiato la morale, perché prima c'erano due tipi di verginità, una era la verginità religiosa e l'altra era la verginità perché aveva paura di rimanere incinta e l'aborto non era permesso e c'era l'aborto che era. Quindi molte ragazze prima di andare insieme con uno, con il maschietto, le che pensavano sette volte, le che diceva sempre sta attento, mi raccomando sta attento, ne parliamo la prossima volta.